Qualche anno fa, 3-4 anni fa, mi sono trovato nella suite dell'hotel Excelsior dove Kurt Cobain aveva tentato il suicidio nel marzo del 1994 e ero lì per registrare un'intervista televisiva, mi sono affacciato alla finestra e ho visto Via Veneto dall'alto e l'ho vista forse per quello che veramente era, cioè una strada lontanissima dal suo mito che è quello della dolce vita, ho visto una strada fantasma addormentata e a poco a poco ho immaginato una Roma dove il riscaldamento globale tocca delle punte talmente alte che non si riesce più a vivere di giorno, si lavora la notte e quando invece il sole sorge come i vampiri si va a dormire perché fa troppo caldo e in questo scenario di apocalisse climatica i romani a poco a poco abbandonano la città e si trasferiscono nel fresco e prospero nord e Roma diventa preda, diventa la città degli immigrati, della gente di fuori, di quelli che il protagonista del mio romanzo chiama i nuovi barbari del terzo millennio. Naturalmente i cinesi essendo la comunità più operosa e più ricca diventano anche la comunità dominante e Roma diventa una cina città. Il rapporto con la letteratura di genere per me è sempre stato molto importante. Ho cominciato ad appassionarmi alla letteratura leggendo fantascienza, in particolare leggendo Philip Dick. Devo dire che la letteratura italiana soltanto in questi ultimi anni ha scoperto le grandi possibilità della letteratura di genere, in particolare la cosiddetta letteratura noir o comunque le crime story. ed è una, come dire, una novità in un certo senso perché la nostra letteratura si è sempre distinta invece per un approccio più, diciamo così, più forte alle questioni del reale. In Cina città cerco di confondere i due piani. Da un lato c'è appunto questa mia propensione verso il mondo del fantastico che per me è un modo di, come dire, vedere la realtà attraverso uno specchio deformante. E dall'altro però c'è, come dire, una serie di cose reali che nel romanzo sono però rappresentate in termini di suggestione psicologica, di paure. In Cina città quello che è reale sono le paure che attanagliano i cittadini romani, o meglio il mio protagonista che è l'ultimo dei romani rimasti in città. Io vivo all'Esquilino, quartiere romano nel centro della città, vicino alla stazione Termini. quartiere che da una decina d'anni, una quindicina d'anni, ormai è diventata la più grande Chinatown italiana. Devo dire che ho un'estrema simpatia per loro, anche se ci sono obiettivamente degli aspetti che, come dire, che ci inquietano, inquietanti, insomma, nel loro modo di essere. I cinesi hanno, tra l'altro, molte cose in comune con i romani, anche una delle ragioni per cui ho scelto di raccontare una Roma invasa dai cinesi. Proprio i tratti in comune, pur nell'enorme diversità che ci separa. Uno di questi, secondo me, a mio avviso, è un rapporto con le cose caratterizzato da un certo cinismo. Ora, il cinismo dei romani, come dire, è il cinismo di chi crede di avere vissuto qualunque cosa. I cinesi, anche loro, sono un popolo, diciamo così, per certi versi, per molti versi, anzi, non certi, molti versi cinico. Più che cinico, è un popolo materialista. Qualcuno, un cinese ha detto, ha detto che, uno scrittore cinese ha detto che i cinesi sono il popolo più materialista della terra. Loro hanno questa grandissima propensione al commercio, da cui poi deriva anche la loro grandissima capacità di intrattenere relazioni umane. E tanto è forte questa cosa. Mi ricordo che quando i primi tempi, il quartiere dove vivo ha cominciato a popolarsi di cinesi, mi sono accorto che quando camminavo per le strade senza niente, nessuno mi guardava. Se invece giravo con una busta, fosse del supermercato o di un negozio, i cinesi guardavano, mettevano l'occhio sulla busta nel tentativo di capire che cosa avevo comprato. Perché, come dire, probabilmente nella loro testa c'era l'idea di, ok, questo signore compra queste cose, imbastiamo un business su quel tipo di prodotto. è una cosa innata. Mi ritengo un pittore prestato alla letteratura in un certo senso perché la letteratura l'ho scoperta quasi in tarda età. Il mio sogno era quello di diventare pittore. Poi, proprio mentre finivo, terminavo gli studi, mi sono reso conto che non avevo il talento necessario. Ora che sono, diciamo così, al quinto romanzo, ho qualche anno in più, mi sento un po' pacificato da questo punto di vista. E quindi ho, come dire, ho riscoperto la pittura perché so benissimo che non potrò mai diventare un grande artista, so che non ho il talento necessario, però non ho neanche più quell'ansia. Grazie. Grazie.